Saranno tre, uno, due, tre, quattro, con il corridoio che arriva fino là in fondo, il verro va avanti e indietro qua dentro, si muove qua. Poi le altre femmine dici? Sì, un'altra femmina e un verro. E poi lì c'è un altro corridoio che poi fa una sacca, quindi si allarga, che va nel recinto vero proprio. Queste le abbiamo orientate così, così... Voi le avete fatte portare qua? Esatto.